Le attività sportive sono fondamentali per la sezione degli Alpini di Piacenza, così come per tutte le penne nere. Noi siamo con il responsabile delle attività sportive, che è Gualtiero Quattrini. Allora, come ha formato questo gruppo e quali sono le principali attività che svolgete durante l'anno? Puntiamo a varie gare, diciamo, quelle nazionali e poi ne abbiamo una sezionale che era da anni che si reggeva, diciamo, che anche quest'anno cerchiamo di svilupparla più degli altri anni, con concorrenti sempre numerosi, diciamo, con classifiche ben organizzate anche da quelle che sono le classifiche imposte dalla sede centrale dell'ANA, diciamo. Poi vogliamo partecipare, di cui due le abbiamo già fatte partecipate, gare. Abbiamo fatto una gara di sci di discesa a sua Montepora. Abbiamo l'altra domenica, precisamente all'8 di febbraio, siamo andati a Prazelato. Abbiamo fatto una magnifica gara perché rispetto all'anno prima, al 2017, noi abbiamo raddoppiato gli atleti, in più, atleti tutti bravi, validi, tant'è che abbiamo ottenuto un risultato mirante, diciamo, perché siamo riusciti su 41 sezioni partecipanti di tutta Italia, tra cui anche la Sicilia. Siamo arrivati a 19esimi su 41 sezioni, per cui abbiamo dato dei buon numeri, diciamo, dai. Allora, c'è grande soddisfazione sull'aspetto sciistico? Tanta soddisfazione. Poi stiamo organizzando adesso, quanto prima, la gara di tiro a segno qua a Piacenza, il nostro poligono di tiro, che è il 21 di aprile, un sabato pomeriggio. L'altra che stiamo organizzando è quella a Pattuglie, diciamo, il 9 di giugno, su un posto vicino a Bassano del Grappa, diciamo, perché noi facciamo sempre delle offerte un po' lunghe, impegnative, diciamo, quindi... E vorremmo partecipare anche, mi sto dando da fare per trovare, appunto, gli atleti li ho un po' già, ma per organizzare un'altra, la gara di mountain bike, queste sono le quattro gare nazionali che noi vorremmo partecipare. In base ai risultati, anche il numero degli atleti che abbiamo, che noi ne abbiamo quasi una quarantina adesso, tra un gruppo, l'altro, più l'altro, più l'altro, otteniamo dei punteggi, diciamo, che poi hanno un ritorno, diciamo, anche se pur minimo, contributivo dell'ANA nazionale di Milano. Insomma, ecco, questo è un po' il nostro problema. Però, come dico, abbiamo ancora anche dei margini di miglioramento, soprattutto nel fondo ho ancora due atleti, che sto cercando di convincerli, perché, sa, sono impegnativi queste gare qua, per cui anche gli atleti a una certa età non si sentono più di dare come davano quando avevano una certa età, diciamo. Per cui, però, riusciamo a convincerli, perché quando andiamo via, riusciamo a creare, andiamo insieme, un bel affiattamento, un bel rapporto. Anche, devo dire che adesso sono anche aiutato molto dal Presidente e dal Vicepresidente, che hanno capito che sono gare impegnative, per cui anche loro cercano di avvicinarsi il più possibile ai nostri atleti, diciamo. E a quanto pare lo sport mantiene in forma, ma cosa rappresenta lo sport per gli alpini? Eh, per gli alpini significa, non dico ringiovanire, ma quasi, perché lei deve pensare, dovete pensare che gli alpini hanno tutti una certa età, gli aggregati un po' meno, diciamo. Quindi, facendo gare la nostra età significa avere un colpo di ringiovanimento, di ringiovanimento, diciamo. Ecco, questo è quello che penso io, poi, insomma. E allora vi auguriamo tante altre gare. Grazie. Tra gli sportivi c'è anche il Vicepresidente della sezione, Gianluca Gazzola. Quindi cosa rappresenta lo sport per la sezione piacentina? Beh, sportivo una volta anch'io, diciamo. Adesso mi do da fare, come mi sono andato da fare prima per l'Associazione, come coordinatore prima di Gualtiero. E per l'Associazione Alpini lo sport è molto, molto importante. È importante perché è un'attività che avvicina i valori della montagna. Infatti, a livello nazionale, seguiamo otto attività, otto specialità sportive, coinvolgendo duemila atleti a livello nazionale. È un gran bel giro. Le nostre giornate, come diceva già prima Gualtiero, sono più che altro giornate di festa. Prima di tutto, quando ci ritroviamo abitualmente noi. Poi diventa importante anche la classifica perché siamo abbastanza competitivi, anche a una certa età. Soprattutto giornate di festa. Per l'Associazione e anche per la nostra sezione è importantissimo lo sport, anche perché avvicina ai nostri valori, ai valori della montagna, alle attività sportive in montagna. E soprattutto perché con lo sport riusciamo a fare un po' di proselitismo. Proselitismo anche presso i giovani, perché è una di quelle attività care a noi, ai nostri valori, ma che può avvicinare i giovani all'Associazione. L'auspicio è proprio quello di implementare questo gruppo sportivo. Sì, stiamo cercando adesso, anzi, sfrutto l'occasione per lanciare un appello a qualche baddo giovane che ha portato il cappello alpino per un certo periodo della sua vita. Se si la sente, di farsi vedere in sezione, perché effettivamente abbiamo un posto per tutti, anzi, stiamo cercando di aumentare la nostra attività, di allargare le nostre iscrizioni.